Parlare di crisi del videogioco è effettivamente il modo migliore con cui possiamo andare a descrivere quella che è la situazione che stiamo vivendo? O forse c'è qualche altro elemento di cui tenere conto? Volevo fare oggi giusto qualche riflessione veloce, un'ottica di chiacchierata, su questo punto, che in effetti abbiamo sentito nominare tante volte, no? In questi ultimi mesi, penso anche voi, abbiate sentito parlare di una crisi del videogioco. E anche di recente mi è capitato pure su YouTube di trovarmi davanti a vari video che titolavano in modo più o meno catastrofista che arriva la fine del mondo, videoludico, arriva l'armagedon, aiuto, sparirà tutto quanto, si salvi chi può, è un grosso problema, il mondo cambierà per sempre. E per cui c'è molto questa narrazione. Ma più che altro, quello che sembra, almeno finora che ci troviamo davanti, non è tanto una crisi del videogioco come medium, ma semmai una crisi di determinate parti del videogioco, quello sì, una crisi di determinati modelli produttivi. E quindi forse vale la pena andare a ragionare un po' in quest'ottica, perché proviamo a dare qualche dato di carattere generale che può aiutarci a iniziare a fare un quadro della situazione. Ripeto, è un inizio, non è un punto completo, anche perché il quadro è molto complesso e ramificato e va anche a attingere a tutta una serie di cambiamenti che non riguardano solo quello che è il medium videoludico, ma sono su una scala molto più ampia. Diciamo anche, è una banalità, ma è utile ricordarlo, che non sappiamo comunque cosa ci aspetterà il futuro. Si possono chiaramente fare delle ipotesi, però c'è sempre la possibilità che vada a cambiare qualcosa, magari proprio a livello strutturale, e questo cambiamento vada poi a cascata ad avere delle ricadute che oggi non possiamo prevedere, o che magari ci si può in parte immaginare, ma non sembra essere la direzione primaria in cui si sta andando. Quindi, prima di tutto, punto numero uno, ricordiamo il fatto che nel suo insieme, nel suo complesso, in termini di fatturato, di produttività, il videogioco comunque continua a crescere. Certo, non ha avuto quella crescita così verticale, vertiginosa, che c'è stata durante il periodo del lockdown, ma è anche comprensibile, direi. Cioè, quello è stato un contesto, con tutta una serie di eccezioni, che è andato a scardinare tutta una serie di trend che erano in corso, da un lato, e dall'altro è andato anche a velocizzarli. Questo, tra l'altro, del lockdown ci porta anche ad altre questioni che toccheremo tra un attimo. Per cui è uno, appunto, di quegli elementi imprevisti di rottura totale rispetto all'andamento, e quindi, in quel periodo, il medium videoludico era cresciuto molto più rispetto alle aspettative. È stato, nell'insieme, uno dei settori che non è stato intaccato dal lockdown, ma, anzi, nell'insieme, ripeto, ha avuto un boost. Qui stiamo ragionando in termini di sistema, di totalità. È chiaro poi che, anche durante il lockdown, un singolo team può aver chiuso, può essere andato malissimo, può aver avuto tutta una serie di problemi. Per cui, ripeto, ci sono stati degli andamenti poi ondulatori, dopo quello che è stato questo periodo, siamo davanti a una fase un po' di riassestamento, per cui ci sono stati anche momenti un po' di calo, ma nel complesso il videogioco, come detto, nel suo insieme, continua comunque a essere in crescita. Secondo punto, quello che ha portato poi molte persone a parlare effettivamente di licenziamenti, scusate, di crisi, che è la questione dei licenziamenti. Abbiamo effettivamente visto, tra il 2023 e adesso questi primi mesi del 2024, tutta un'ondata di licenziamenti in varie parti del settore, dell'industria, che hanno toccato sia persone interne agli studi di sviluppo, ossia tutta una serie di figure, un po' di contorno, che ruotano intorno comunque al medium videoludico. E qui le questioni sono tante e sono molteplici. Sicuramente non è un numero trascurabile, perché si parla di più di 10.000 persone che in questo arco temporale sono state lasciate a casa, quindi in termini umani è sicuramente un dato drammatico. Di nuovo, se andiamo a collocarlo in termini sistemici, siamo comunque davanti a un segmento di quella che è la totalità. Quindi se parliamo di un'industria comunque dove tra annessi e connessi, quindi persone che non solo lavorano sviluppando videogiochi, ma ruotano anche in tutte queste professioni un po' di contorno, siamo comunque davanti a un mezzo milione di persone in tutto il mondo, anche di più probabilmente, ripeto, dipende da quanto andiamo anche a allargare su determinate professionalità di contorno. 10.000 persone sono un numero comunque sì non trascurabile, non irrilevante, ma non vanno a intaccare quella che è la totalità, di nuovo. Perché ci sono stati questi licenziamenti? Anche qui ci sono alcune ragioni che sono specifiche, contingenti su determinate realtà, su determinati casi. Di nuovo, se dovessimo andare a fare un po' una semplificazione, un elemento di sistema, cosa succede? Succede che di nuovo da un lato c'è stato il lockdown che ha accelerato tutta una serie di processi, che di nuovo erano già in corso. Quindi c'era già da prima una tendenza comunque ad avere una certa crescita più o meno incontrollata da parte di realtà piuttosto grosse, questa iperfettazione continua di ruoli, di posizioni, che risultava premiale per logiche di investimento, per tutta una serie di questioni, per l'ottenimento di finanziamenti, raccolta di fondi, e quindi si tendeva a incamerare anche persone per andare a sua volta a incamerare, ottenere, guadagnare quelli che erano delle varie linee di finanziamento, bonus. Poi, ripeto, stiamo facendo un discorso molto veloce e semplificato. Lockdown, tutto ciò va a velocizzare considerevolmente, non solo per il medium videoludico, ma anche un po' per tutto il settore tech nel suo insieme. Che cosa succede? Vi ricordate bene, penso, no? Tutti chiusi in casa, e tante persone dicevano il lockdown, il covid, cambieranno per sempre le abitudini delle persone. E quindi c'è stato chi, da un lato chi lo immaginava effettivamente, chi magari non lo vedeva neanche più di tanto come cosa, però lì per lì cavalcava comunque questa ondata per dire, ecco, allora domani ci sarà solo lo smart working, le persone non usciranno più di casa, le abitudini dei consumatori cambieranno per sempre, tecnologia ovunque, e tante altre cose. Quindi, come detto, già c'era comunque una tendenza crescente verso tutta una serie di direzioni, verso quindi, banalmente, se stiamo sul nostro esempio i videogiochi, erano già in crescita, arriva il lockdown, tanto più molte persone cosa fanno? Dicono, beh, andiamo a crescere ulteriormente anche noi come realtà aziendale. E qui ci sono state situazioni differenti. Cioè, da un lato ci sono state situazioni di team, peraltro di solito, medi, medio-piccoli, che effettivamente si sono trovati ad avere più lavoro di prima tra le mani. E quindi, in un periodo dove tutta un'altra serie di realtà licenziavano, chiudevano, tenevano a casa le persone, loro andavano magari ad assumere nuove persone, però in un numero comunque contenuto. Cioè, era una crescita all'interno di un ordine comunque di ragionevolezza sul fatto di dire siamo un team piccolino, siamo in, so, 20 persone, ce ne servono altre due, tre, quattro, perché abbiamo più lavoro di prima, più commissioni, come detto. Perché, ricordiamoci anche questa cosa, molti team piccoli, medio-piccoli, non lavorano solo col B2C, quindi col Business to Consumer, non fanno solo il videogioco commerciale che metto sullo Steam di turno, ma vanno invece a fare B2B, quindi lavorano con altri business. Quindi arriva, c'è anche un esempio a caso, arriva la banca di turno che dice devi farmi il metaverso della banca, ok? Quindi questa azienda fa un ambiente virtuale legato alla banca di turno, gli mette tutto quello, quello che vogliono, e la banca paga per questa cosa qui. Per cui, appunto, in un momento dove tutti in casa, smart working, la gente deve comunque raggiungere, il proprio pubblico, i propri consumatori, i propri acquirenti, i propri utenti, ecco che si è vista questa crescita. Però, appunto, da un lato è stato un qualcosa di dire seguiamo quello che è più o meno il nostro naturale andamento di crescita, dall'altro ci sono state queste esplosioni, questi boom di assunzioni, che poi adesso purtroppo stanno vedendo un ridimensionamento. e quindi questo, come detto, lo si vede anche più in generale nel settore tech, da varie parti, da varie sfaccettature. Quindi poi ci sono sicuramente anche situazioni più specifiche, però sul fondo c'è questo quadro qui. Aggiungiamo anche un'altra cosa, sempre nell'ottica, che tocca un po' un po' quello che dicevamo e un po' ci porta verso il punto successivo. Quindi punto numero tre, la presenza di vari game pass, abbonamenti e forme simili. Perché sottolineare questa cosa? Perché è un altro modo con cui appunto andare a ottenere quelli che sono dei guadagni in un modo sicuro. Perché io sviluppatore, vado da un publisher, gli faccio dare una mano dal publisher per andare a promuovere, a diffondere il mio videogioco e il publisher mi fa ottenere un accordo, facciamo per il game pass, che effettivamente in passato, per qualche anno, è stato visto, sottolineato da molti sviluppatori, come un po' una nuova corsa all'oro, cioè un qualcosa che dicevano ecco, io ho il mio videogioco piccolino, sono il mio team piccolino, però grazie al game pass da un lato ho avuto tutta una serie di soldi per portare avanti il mio progetto. E poi questo è stato visto, giocato da tutta una serie di persone che altrimenti non sarei riuscito ad andare a raggiungere, per cui è un qualcosa di virtuoso sicuramente. Il fatto cos'è anche qui che questo meccanismo sta andando un po' sempre più a incrinarsi e questo lo otterrò magari per un video a parte perché è un discorso che vale la pena quello sia approfondire più nel dettaglio, ma comunque è stato segnalato da un po' sempre di sviluppatori negli ultimi mesi sul fatto che molti dicono che sia un po' finita questa breve età dell'oro che c'è stata dal loro punto di vista. Ricordiamo anche giusto di passaggio che comunque i modelli di abbonamento stile game pass ma potremmo estendere il discorso anche su quelli che sono tutto il mondo delle OTT nel cinema quindi i vari Netflix e simili sono molto molto difficili da dicevo sono molto difficili da mantenere nel tempo perché hanno tutta una serie di problematiche però magari quello lo vediamo appunto come detto più nel dettaglio in un'altra occasione quello che possiamo limitarci a sottolineare è che sono appunto dei modelli che vengono proposti con dei margini di guadagno bassissimi anzi molto spesso in perdita per cercare di incamerare sempre più persone all'interno e poi andare a cercare di fare in seguito tutta una serie di altre azioni che vadano ad alzare quello che è lo scontrino medio diciamo della persona quindi che se prima li porto dentro dicendogli guarda con due euro al mese puoi guardare tutti i film che vuoi poi questa cosa va a modificarsi quindi o inizio a inserire la pubblicità alzo il prezzo dell'abbonamento però a quel punto molte di queste persone escono quindi è un gioco molto avvincente molto interessante ma anche molto pericoloso che richiede di avere le spalle coperte da capitali enormi e anche lì c'è tutta una serie di dimensione finanziaria dove io quindi vado ad attingere in vario modo quelli che sono appunto dei capitali vado a quotare la mia azienda la mia azienda può apparire con una determinata solidità anche quando magari poi in termini di effettivo profitto da determinati prodotti in realtà è in perdita quindi ripeto un discorso molto complesso però anche questo è un elemento da tenere in considerazione e dicevo fa un po' da ponte tra le due cose perché anche qui cos'è successo che da un lato anche tutto questo è stato accelerato di nuovo da lockdown ed intorni quindi si lega al discorso di prima così come si lega al discorso però del fatto che è venuta meno un po' in questo modello in questo approccio la vendita diretta all'utente cioè appunto immaginiamo io sviluppatore che ho tutta una serie di di soldi che vado a ottenere per finire il mio progetto perché poi questo viene messo sul game pass o da qualche altra parte tutto sommato posso smettere di preoccuparmi di dire ma chi ci giocherà effettivamente cioè chi è il mio giocatore finale chi è il mio acquirente per cui cosa succede? succede che non solo in questo caso ma in un senso più generale quarto punto sembra in effetti essere un po' venuta meno quello che è un ragionamento proprio sul portare un videogioco al mercato che poi è l'essenza la definizione stessa del marketing che vuol dire appunto che io prendo un prodotto lo creo apposta per fare in modo che possa risuonare con gli interessi le aspettative i desideri di un determinato gruppo di persone che fanno parte del mio mercato che non sono tutte le persone del mondo appunto non esistono videogiochi per tutti esistono videogiochi per tutta una serie di fasce di categorie di nicchie più o meno estese più o meno ampie e quindi io a monte appunto vado a ragionare il mio videogioco pensando a quello che a valle sarà poi il mercato quindi per questo vedo molti che usano quando sentono queste frasi no è un problema di marketing che in realtà intendono un problema di comunicazione a volte ci sono anche problemi di marketing a monte però appunto sono due cose un po' diverse cioè io posso aggiustare la comunicazione che magari non è ottimale invece il marketing di fondo tutto il processo che ho fatto dietro lo è e allora ecco che il mio videogioco funziona ma se io ho anche la comunicazione più bella del mondo ma non c'è proprio questo ragionamento di accostamento tra un prodotto e delle persone che vanno a fruirlo e che sono interessate a quel prodotto è molto difficile che la comunicazione possa cambiare radicalmente il destino di un prodotto sì per carità c'è sempre il caso eccezionale il fenomeno strano che magari anche se non c'è stato quel ragionamento becca un pubblico inaspettato che nessuno pensava che potesse esserci cioè ricordiamo ci sono sempre ovviamente delle eccezioni però di base c'è questo c'è questo approccio ora sul perché ci sia questa sorta di di cecità di fondo faccio fatica anche io a dare delle risposte in senso assoluto perché è molto molto complesso però sicuramente possiamo immaginare di nuovo che da un lato ci sia in effetti almeno in parte sottolineiamo almeno in parte quindi non è la causa ma perlomeno una concausa quello che dicevamo anche poco fa cioè se io devo attirare degli investitori se io devo andare a inseguire quelli che sono in varie forme tutta una serie di modi con cui incamerare dei soldi qui potremmo aprire mille altre parentesi su quante e quali siano queste modalità come vadano a funzionare però quando devo ragionare in quest'ottica c'è effettivamente il rischio che io vada a pensare poi allora al mio videogioco in quest'ottica andando a dimenticarmi poi di quello che è l'utente finale di quella che è la persona che va a giocare al mio videogioco e che tendenzialmente andrà anche a comprarlo così come un pochino il discorso dei vari game pass e simili andava in parte a legarsi a questo stesso discorso cioè anche lì se io ottengo questa possibilità c'è c'è questo rischio cioè che io dico ragiono allora sul fatto che sto facendo un prodotto che va sul game pass che mi su cui ho già avuto dei soldi su cui quindi sono già mi sono già messo a posto non vado a pensare più di tanto al resto che sembrano davvero cose sciocche però non escluderei che ci sia stato questo elemento di fondo e quindi tutta una serie di parametri di ragionamenti di concetti che vanno poi a staccare il videogioco da quella che è la sua fanbase per cui abbiamo visto dei prodotti anche costosissimi enormi che sembravano anche sulla carta dovessero avere un buon successo pensiamo a Suicide Squad pensiamo a Skull & Bones tanto per fare due esempi piuttosto recenti che poi stanno performando molto molto male pensiamo al caso di Suicide Squad tanto per prenderlo come esempio concreto e su quello ne avevo proprio parlato anche anche a parte in passato cioè non si capisce per chi sia destinato un videogioco che dà fastidio per tante ragioni diverse a quella che dovrebbe essere il pubblico su cui primariamente dovrebbe andare a puntare per cui dopo che c'è stato un primissimo molto lieve movimento iniziale di copie di giocatori poi si è assestato su dei numeri molto molto bassi per un gioco del genere termini anche di utenti giornalieri su Steam che è un problema tanto più per un gioco che è pensato nell'ottica game as a service quindi dove per funzionare per far funzionare tutta questa macchina devo avere un numero enorme di persone che stanno a giocarci tutti i giorni se non ho questo numero esteso ecco che le cose sono un grosso problema e qui questo è stato il caso anche il DLC del Joker non ha risollevato non ha cambiato minimamente le cose quindi c'è stato un altro piccolo picco piccolo picco di giocatori su Steam di utenti che si sono connessi poi basta di nuovo è finita questa cosa e quindi anche qui che cosa stiamo vedendo aggiungiamo un altro punto adesso forse il quinto adesso ho fatto un elenco un po' così veloce ma ricordiamo anche questa cosa cioè come è emerso i giocatori tendono a preferire quelli che non sono i videogiochi più recenti perlomeno è ciò che si è visto di nuovo nell'ultimo periodo di tempo ora videogiochi meno più recenti qualcuno dice ah quindi torna al retro gaming non è proprio così per quanto ci siano ovviamente persone sempre interessate a quelli che sono i videogiochi nel passato che rimangono molto fedeli a determinate fasi determinati periodi ma non è tanto questo c'è semplicemente il fatto che dice quali sono i videogiochi più giocati beh non sono quelli usciti in generale nel 2023 o giù di lì perché abbiamo sempre i soliti fortnite roblox minecraft ed intorni quindi sono tutti giochi che iniziano ad avere cinque o più anni sulle spalle quindi sono anche molto più più vecchi per cui qual è anche qui il fatto non stiamo parlando di Tetris ok non stiamo parlando di Doom del 93 stiamo parlando comunque di giochi recenti però effettivamente continuano a essere quelli più più giocati e lo si vede in tanti altri casi quindi sì certo poi c'è l'eccezione c'è il videogioco che arriva in seguito smuove un po' le acque però se andiamo a vedere appunto le varie classifiche c'è questo mantenimento di interesse su giochi che non sono tra i più recenti e questo anche cosa ci porta a vedere che siamo davanti al vertice a quello che è una sorta di 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 punta dell'iceberg difficile da raggiungere cioè io ho tutta questa tutta questa base tutto questo elemento sommerso di cose che si muovono e poi c'è questa questa vetta dove sono tutti tra l'altro dei giochi che presentano una tanto un'enorme personalizzazione molti di loro sono anche dei videogiochi free to play non tutti ma abbiamo questo questo modello che è un modello estremamente profittevole ma è un modello estremamente profittevole solo se io arrivo al vertice se non arrivo lì ho speso un sacco di soldi ho speso magari quei 200 milioni o più per realizzare il videogioco tripla A altissimo budget eccetera e poi non viene giocato da nessuno o comunque da un numero molto più basso di persone rispetto a quello che andrebbe a servirmi e quindi poi anche lì certo non è sostenibile questo modello si sta rivelando un grosso problema perché ci sono già tutta questa serie di videogiochi che sono molto forti che restano in una posizione di dominio e che è molto difficile andare a scalfire soprattutto nell'ottica come detto free to play game as a service perché se io sono 5 anni che gioco a fortnite facciamo un esempio a caso e poi arriva l'ice of p prendo un altro esempio a caso che è un gioco single player magari mi metto a giocarlo mi dura quello che dura e poi torno a fortnite quindi ogni tanto magari vado a fare questa alternanza vado a prendere il videogioco magari più piccolo magari single player ci gioco mi diverto però rimango poi su questi titoli appunto il fortnite possiamo anche dire il rocket league della situazione o tanti altri il genshin impact ma quando mi trovo appunto davanti a un nuovo videogioco che punta a scalzare quello proprio che è l'elemento che finisce anche un po' per regolare la mia temporalità cioè quel gioco su cui torno periodicamente magari non ci gioco tutti i giorni però so che ho quegli appuntamenti settimanali dove magari mi trovo con gli amici dove dedico la serata a giocare a quella cosa ho questa mia routine se arriva un videogioco che vuole scalzare quella routine se arriva il suicide squad della situazione skull and bones della situazione che dice no adesso giochi a questo ti fai le missioni giornaliere c'è il mondo che continua ad aggiornarsi ci sono le nuove missioni beh è molto più difficile perché un conto è dire metto temporaneamente in pausa quella cosa lì che sto facendo che è già molto affermata molto forte molto solida per giocare appunto magari a un lice of p lo stellar blade della situazione ecco quando arriverà adesso un altro conto è dire che vado a sostituire questo mio approccio che sto avendo quotidiano o comunque periodico per cui come detto soprattutto in questi casi abbiamo un grosso problema perché certo è un modello ripetiamolo sempre perché questo non è un passaggio magari facile certo che è un modello che potenzialmente può portare vagonate di soldi assolutamente sì e infatti da maggior parte di quelli che sono i videogiochi al top hanno un modello che va più o meno in questa direzione ma non vuol dire che sia alla portata di tutti quanti quindi già il tripla è in difficoltà tanto più lo è quando vado ad avere questi elementi perché poi sono un'arma a doppio taglio perché certo aumentano il mio potenziale profitto ma aumentano anche di gran lunga quelli che sono i miei costi perché allora devo prevedere scalabilità dei server anti cheat tutta una serie di moderatori aggiornamenti costanti devo continuare a buttare fuori nuovi contenuti quindi anche tutti i miei vari sviluppatori artist ed intorni continuano a lavorare ovviamente parto prima poi vado a ottimizzare i contenuti però comunque se il gioco va avanti nel tempo devo continuare a far uscire personaggi per esempio skin missioni quindi questo vuol dire devo avere asset devo avere dei livelli devo avere di tutto e quindi certo che aumento il mio guadagno potenziale ma aumentano anche i miei costi per cui finché la macchina la ruota gira si alimenta tutto bellissimo siamo davanti ai casi però al top a quel pezzettino lo dicevo anche prima proprio un iceberg perché è quello di solito che vediamo tendiamo a dimenticare il sottostante cioè tutti i videogiochi che provano ad andare in questa direzione ma non ci riescono anche il comunque poi come detto il tripla sta più in generale e quello è vero non è sostenibile sta dimostrando che diventa sempre più difficile andare a ragionare in questo modo perché? perché ho dei costi enormi ho dei team immensi ho migliaia di persone letteralmente migliaia che lavorano al mio videogioco ho 200 milioni che devo andare a spendere per andare a realizzarlo e poi anche devo portarlo a mercato ci sono costi quindi anche di comunicazione che sono intensi che sono molto importanti se non ho una sicurezza piuttosto solida piuttosto granitica del fatto che quel videogioco sia effettivamente poi acquistato e giocato da milioni di persone allora è un rischio fortissimo per cui cosa succede? succede che appunto quindi c'è meno sperimentazione quindi si tende ad andare su quelle che sono delle proprietà intellettuali solide ma anche lì basta poco per fare un errore come detto perché anche Suicide Squad sono nomi comunque amati dai fan Star Wars ma basta poco per sbagliare anche il videogioco di Star Wars ma si possono fare degli scivoloni anche comunque in questo contesto in quest'ottica e soprattutto mancano quelle che sono delle nuove proprietà intellettuali viene un po' meno questa cosa che attenzione che qui non vuol dire che in assoluto non esiste più questa cosa ma vuol dire che è un elemento che viene guardato con attenzione con un occhio di un po' di paura da parte appunto delle aziende dei team che devono mettersi ad andare in questa direzione anche giustamente perché si parla appunto come detto di spese considerevoli e quindi ecco che molti di questi di questi approcci sono andati anche purtroppo male e quindi anche questo è legato poi al fatto che certi team hanno chiuso sono stati inglobati in altri hanno lasciato a casa tutta una serie di persone per cui cosa cosa succederà in questo senso sarà da vedere in futuro cioè probabilmente forse vedremo un po' un ridimensionamento questa sembra una possibilità un pochino lo stiamo già vedendo perché come detto la crisi del videogioco al momento non sembra più di tanto esserci c'è la crisi di determinate parti di quello che è il mercato delle parti che certo sono molto visibili sono molto in vista quindi tanto più attirano l'interesse tanto più se ne va a parlare perché quando il colosso il gigante inciampa e fa un tonfo lo sentono tutti se è il piccolino che cade se ne rendono meno conto e quindi in questo caso ci sono diversi colossi che hanno fatto dei passi falsi e quindi sicuramente questo ha avuto una risonanza decisamente maggiore cosa vedremo però vedremo il fatto che diversi team medio piccoli stanno invece continuando ad andare bene pur con tutte le difficoltà del caso perché anche lì è chiaro che se andiamo a vedere nell'insieme nella totalità ci sono stati anche chiusure licenziamenti problemi anche in realtà più piccole questo è chiaro quindi non è un discorso assoluto è ovvio che ci sono sicuramente anche per cause assolutamente contingenti anche diverse realtà che sono andate male in questo senso però nell'insieme potremmo forse vedere proprio questo da un lato quindi che i videogiochi i più costosi di tutti i tripla i colossi resteranno a pannaggio di pochi team di pochi colossi che saranno gli unici che continueranno a portare avanti questa cosa e che potranno permettersi quelli che sono dei fallimenti mentre invece quelle che sono realtà più piccole avranno modo di continuare a prosperare anche di sperimentare poi magari alcune di loro andranno a trasformarsi in quelli che saranno in poi nuovi colossi del futuro però un conto appunto è se io vado a lanciare un po' di esperimenti su dei videogiochi piccoli e poi dopo vedo quale funziona meglio quale peggio un conto è appunto se sono bloccato per anni tengo mille persone a lavorare per cinque anni su un videogioco spendo 180 milioni e questo va male un altro discorso è se faccio un progetto più contenuto contenuto anche temporalmente anche quella è una questione molto importante da andare a sottolineare cioè bisogna anche lì cercare molti lo stanno facendo ed è una strada virtuosa di ridurre quelli che sono i tempi dello sviluppo che poi cosa vuol dire questa cosa visto che nessuno ha la barchetta magica vuol dire fare dei videogiochi più piccoli di nuovo più piccoli non per forza anche di tratto in senso di di ore ma per esempio che non vadano più a inseguire in modo ossessionato il fotorealismo che piace a molto piace a tante persone ma è qualcosa di costosissimo ma vadano a prendere un'altra strada che anche qui non è sempre fattibile per tutti però ci sono tanti tanti videogiochi che hanno avuto un enorme successo che hanno raggiunto milioni di persone e che sicuramente non vanno a inseguire la perfezione grafica l'idea che il videogioco debba essere il più possibile vicino alla realtà ci sono ci continueranno comunque a esserci ma ci saranno altre strade ci saranno altre direzioni perché se no appunto non è possibile sperimentare e poi perché anche i gusti del mercato cambiano comunque per cui magari c'è un momento in cui è uscito un videogioco di successo per esempio piace molto allora si punta a farne dei cloni ma se io con il clone arrivo sei anni dopo magari il gusto delle persone è cambiato radicalmente nel frattempo quindi c'è anche questo aspetto qui ma più che il gusto che poi alla fine è comunque più o meno sulla nicchia di persone su cui appunto primariamente rimane più o meno stabile quindi a meno che non vada non stia proprio tentando di cavalcare la moda del momento non dovrei avere problemi però comunque mi porta appunto a essere esposto economicamente in un modo significativo in un modo che dà diversi problemi per cui stiamo a vedere comunque questi erano un po' alcuni punti che valeva sicuramente la pena tenere a mente all'interno di questo discorso che come detto comunque è complesso è difficile e non è comunque anche qui il quadro completo della situazione però abbiamo lanciato qualche piccolo tassello per andare a fare a fare dei ragionamenti in questo senso è un mondo difficile da capire poi perché molte persone quando vedono dall'esterno il videogioco si fa fatica a coglierne le dinamiche per tante ragioni anche il fatto che anche dall'interno ci sono tantissime realtà che funzionano in un modo diverso proprio anche ieri sera ero all'aperitivo organizzato da Nader Reality facendo delle chiacchiere si diceva proprio questo cioè in termini delle professioni del videogioco che la stessa professione lo stesso ruolo è una cosa se tu sei appunto nel team di mille persone dove sei la piccola ruota dell'ingranaggio che è iperverticale su un singolo task fai solo quello sei super mirato super focalizzato i lavori appunto in un'ottica un po' di catena di montaggio sostanzialmente un altro conto è se sei in un team magari comunque non proprio l'indi di tre persone ok ma un team un pochino strutturato dove però sei qualche decina di persone è chiaro che quello stesso ruolo andrà ad avere un approccio differente si relazionerà in modo diverso con gli altri membri del team e anche il suo lavoro finirà per essere diverso perché generalmente farà ricoprirà un po' più mansioni dovrà essere un po' più trasversale poi ovviamente se andiamo nel discorso siamo il team indipendente siamo in tre in quattro ovviamente una singola persona lì allora proprio deve ricoprire contemporaneamente più ruoli a meno che uno non vada a prendere collaboratori esterni per specifiche cose ma si può farlo fino a un certo punto ci sono cose che io posso delegare in parte all'esterno per creare quel singolo compito che mi serve allora lo faccio fare a un professionista ma se no quel punto significa che è una persona in più stabile e allora però vuol dire che potrebbero non esserci fondi sufficienti per tutti quanti una serie di questioni per cui ricordiamo sempre questo è un mondo complesso un mondo difficile da capire dall'esterno e a volte anche dall'interno comunque anche quando si è dentro al settore si vede magari una determinata realtà una fascia di realtà fatta in un certo modo che potrebbero comunque non essere sufficienti per capire quello che si vede invece in altri contesti un pochino differenti 20 Grazie.